Uniscono le forze per combattere le malattie. La collaborazione fra gli esperti del COSBI, il centro di ricerca Trentino e del Microsoft Research di Cambridge ha portato a un importante studio pubblicato sulla rivista online Nature Scientific Reports. Si è approfondito il fenomeno della divisione cellulare che avviene in base a un algoritmo. Quando la cellula decide di dividersi lo fa effettuando un determinato calcolo. Il lavoro dimostra come i principi di base che guidano sia i sistemi biologici che quelli computazionali sono correlati. In parole povere il nostro corpo spesso si regola come un computer. L'approfondimento di queste conoscenze può aiutare i ricercatori a combattere diverse malattie in modo più efficace dalla preparazione di farmaci alla lotta al cancro. E ora andiamo a Riva del Garda dove 5 anni fa iniziavano i lavori per il teleriscaldamento immunitario.